buongiorno e benvenuti nel mio canale in un video di qualche tempo fa mostrai come creare un QR code un codice QR per facilitare l'accesso allo wifi degli ospiti che arrivassero in casa nostra adesso vediamo come creare un wifi per gli ospiti un wifi specifico per gli ospiti utilizzando il modem fibra della team probabilmente questa funzionalità esiste anche per altri modem per altre compagnie telefoniche ma chiaramente io ho la team fibra vi farò vedere come si fa con team fibra dunque innanzitutto bisogna aprire il modem team fibra che ha un suo ip il suo ip è questo eccolo qua 192.168.1.1 se non si accedesse subito bisogna digitare la password che può essere impostata prima volta che si che si accede si può digitare si può impostare ora una password come vedete qui ci sono tutti tutti i dispositivi che sono connessi a questo modem per creare una rete per gli ospiti si va qua sulla barra di sinistra e si va su preferenze e si va su wifi come vedete si vede subito ci sono tre sotto sotto sezioni prima sezione quella per la frequenza di 24 gigahertz la seconda per la frequenza di 5 gigahertz la terza invece per configurare lo wifi per gli ospiti noi riconosceremo appunto lo wifi per gli ospiti ci si clicca su come vedete lo wifi per gli ospiti attualmente non è configurato però ha già un nome si chiamerà ospiti con il nome chiaramente del di questo di questo modem si va su configura wifi ospiti in questo caso si mette visibile in modo che gli ospiti se arrivano con un cellulare vedano la scritta ospiti telecom eccetera eccetera si mette un attivo si può scegliere la frequenza si può scegliere si può lasciare anche tutte e due le frequenze o poi scegliere una soltanto 5 gigahertz e quella più performante disattivare automaticamente dopo si può lasciare per esempio che si disattivi questo questo wifi dopo magari 30 minuti di inattività mettiamo qui c'è un modello di ciclatura si può lasciare quello al 256 bit che il più potente oppure magari metterne uno meno potente comunque questa è la chiave di ciclatura questa è stata creata automaticamente più potuto complessa si può cambiare adesso io magari ne metto un'altra che magari poi per questione di sicurezza nasconderò si va su salva qui si può lasciare disabilitato perché si può controllare l'accesso soltanto con alcuni alcuni dispositivi si va su salva si va su avanti la password l'ho messa è stata abbastanza semplice per per dare possibilità agli ospiti di digitarle in maniera piuttosto banale e non di starci due ore a digitarla si va su avanti ancora su avanti ancora su avanti dunque se io adesso controllo le le reti che sono disponibili qui come vedete ci sarà anche la rete ospiti telecom eccetera eccetera quando qualcuno verrà appunto la mia abitazione gli dirò di che se si vuole connettere di connettersi a questa a questa rete che appunto che inizia con ospiti e che ha una determinata passo che ovviamente gli comunicherò che ho messo piuttosto semplice proprio per evitare di non dover digitare la password ufficiale quella della fibra telecom che appunto di 24 caratteri e quindi piuttosto lungo quindi un sistema piuttosto semplice che credo possa essere utile quando si hanno spesso degli ospiti in casa nostra che vogliono connettersi allo wifi dopo che è stata configurata la rete per gli ospiti possiamo anche naturalmente disabilitarla con il processo inverso apriamo il nostro modem l'ip del nostro modem che è questo andiamo ancora su preferenze wifi 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 ospiti e in configura wifi ospiti mettiamo non attivo per disattivarla poi andiamo su salva e quindi chiaramente disattiveremo il nostro wifi per gli ospiti e questo è tutto alla prossima volta